ah ragazzi ho proprio voglia col mio nuovo chain di fare una chuckslam a federica adesso insegno che si fa ragazzi ho proprio voglia col mio nuovo chain di fare una chuckslam a federica adesso insegno come si fa ragazzi ho proprio voglia col mio nuovo chain di fare una chuckslam a federica adesso insegno come si fa